Siamo sotto assedio da sei giorni ormai. Zio Dekar è ancora disperso. Il capitano Ramford e gli altri stanno perdendo la speranza. Ho detto loro di non perdere la fede, ma se non riceviamo un aiuto al più presto... È accaduto un miracolo. Un'eroina, come quelle delle storie di Zio Dekar, è apparsa e ci ha salvati. Nel mio cuore sono certa che mio zio sia ancora vivo, e prego che l'eroina lo riporti a casa sano e salvo. Zio Dekar è a casa, al sicuro dalle grinfie del re Scheletro. Sono così felice. Ma il re Scheletro? Pensavo fosse una storia di paese. L'idea del folle re Leoric che torna a torturare questo luogo. Tristram non ha già sofferto abbastanza. Fatico a crederlo, ma la stella caduta è un uomo. Quando Zio Dekar se ne ha reso conto è rimasto deluso. Sperava in qualcosa di più... miracoloso. Zio Dekar è convinto che la chiave per sbloccare la memoria dello straniero sia riassemblare la sua spada. Vorrei poter dire che si tratta di un'altra delle sue folle teorie, ma non posso negare che questi eventi inquietanti iniziano davvero a spaventarmi. Appena abbiamo recuperato il secondo frammento della spada, Magda ci ha trovati. Ci sta sempre alle costole. Chi è? Afferma di conoscere mia madre, ma com'è possibile? Ciò nonostante, dobbiamo arrivare per primi a Wartam e all'ultimo frammento della spada. Zio Dekar se ne è andato per sempre. Ricordo i momenti meravigliosi vissuti assieme, sempre in qualche folle missione. Cosa farò senza di lui? Credeva che lo straniero fosse un angelo, mentre è solo un uomo. Ho sempre saputo che erano solo storie. Zio Dekar è morto per quelle storie. Caldeum. Tutto ciò che mi ha lasciato Zio Dekar conduce lì. È strano. Qui è dove lo incontrai per la prima volta quando ero solo una bambina. E ora la sua perdita mi sembra più incolmabile che mai. Aveva capito tutto sin dall'inizio. Dobbiamo fermare Belial prima che sia troppo tardi. La città nasconde mille segreti e io ne ricordo ancora molti. Se riesco a evitare la guardia imperiale, posso entrare a Caldeum dalle fogne. Nel frattempo i miei amici hanno giurato che avrebbero eliminato Magda. Non servirà a far rivivere Zio Dekar, ma la morte di quella strega porterà sollievo a tutti. Dopo tutto questo tempo... Sì, mia madre è viva. Non potrei essere più felice. Eppure è ancora difficile accettare il fatto che non abbia mai cercato un contatto con me o con Zio Dekar. Sostiene che era per la mia sicurezza, ma mi avrebbe fatto piacere saperlo. Beh, almeno adesso è con me. Mia madre mi sta insegnando le arti magiche e come controllare i miei poteri, ma sento di deluderla ogni volta. Dice che è un dono, ma a me non sembra. Forse allenando mi migliorerò. Intanto ci stiamo avvicinando alla pietra nera delle anime e questo è ciò che importa davvero. Finalmente abbiamo la pietra nera delle anime, nonostante il tradimento di Zoltun Culle. Ho sempre saputo che di lui non c'era da fidarsi. Per fortuna siamo riusciti a sconfiggerlo e a recuperare la pietra. Ho scoperto che mia madre aveva segretamente legato a essa le anime dei signori dell'inferno caduti. Mi chiedo solo perché non me l'avesse detto prima. Abbiamo raggiunto Rocca Bastione, ma mantenere il controllo sulla pietra delle anime adesso impegna ogni minuto della mia giornata. A volte penso ai soldati feriti e alle loro famiglie là fuori, ma allora la mia concentrazione cala e l'incantesimo si indebolisce. Devo restare concentrata e avere fiducia nel fatto che la mia amica salverà la Rocca e la sua gente. Sono giornate dure. Se non fosse per mia madre che mi sta accanto, non so cosa farei. Ogni notte mi dà persino il cambio a guardia della pietra di modo che possa dormire. A volte sogno di trovarmi di nuovo a nuova Tristram con Zio Deckard e è difficile svegliarsi dopo. Adria mi ha detto che la nostra amica ha sconfitto l'esercito di Asmodan e che ora la Rocca è al sicuro. Io quasi non riesco a crederle. Le essenze all'interno della pietra delle anime sono sempre più rabbiosi, più feroci. Lottano contro di me in ogni momento e le loro tenebre cominciano ad affiorarmi agli angoli della mente. Devo essere forte. Quando ho visto i poteri oscuri lasciare la pietra delle anime ho pensato che sarei morta. Tyrael e la mia amica li hanno contrastati, ma io non ho potuto aiutarli. Era come se stessi osservando la scena attraverso una foschia. Cosa mi sta facendo la pietra delle anime? Asmodan deve morire presto. Solo allora potrò essere di nuovo me stessa.